Dopo la pausa natalizia c'è una gran voglia di tornare a giocare il campionato, qui abbiamo una partita importante a Salerno, fondamentale perché è una nostra diretta concorrente insieme agli altri che sappiamo, Matera e Molfetta. Quindi speriamo di fare il risultato punteggio pieno, l'idea è quella di andare a vincere. Poi ovviamente è un campo difficile ma ci proveremo. C'è molto entusiasmo da parte dei ragazzi più giovani e quello fa molto piacere e poi soprattutto di noi anzianotti, me, Persia e il mister. Ci divertiamo, poi quello è lo scopo principale, con il divertimento poi vengono anche i risultati sicuramente. Guardando appunto a Salerno è un crocevia importante per questa stagione? Beh, è fondamentale per rimanere agganciati alle prime posizioni perché perdere i punti a Salerno significherebbe allontanarsi dalle prime posizioni. Ecco perché è poi anche una prova di forza da parte nostra per vedere se realmente siamo alla pari delle altre.